Lanciato da Cittadinanza Attiva Toscana, finanziato dalla Regione Toscana, il progetto Dialogo sbarca sul web pronto a fare chiarezza sui servizi sociosanitari. Rivolto all'utenza ma anche agli stessi operatori sociosanitari fornitori di servizi, il sondaggio permetterà di fare chiarezza su quali siano i servizi offerti in ambito sociosanitario e allo stesso tempo rendere gli operatori sanitari consapevoli di quali siano le reali esigenze sul territorio. Spesso non c'è la possibilità di colloquiare in questo senso, noi speriamo che possa servire, è un progetto che riguarda tutta la Toscana, tutte e tre le aree basse della Toscana partito prima nell'area nostra sud-est e partito ora anche nel centro e nel nord-ovest. Una prima fase prevede la distribuzione del questionario reperibile online che servirà a capire quali siano le conoscenze tra i cittadini dei servizi disponibili sul territorio. Serve a noi per capire il livello di conoscenza sia dei cittadini che degli operatori sanitari, tutte e due sono invitati a riempire il questionario. Sulla base dei risultati del questionario saranno organizzati convegni, dibattiti pubblici e laboratori locali in tutte le tre asole della Toscana con particolare attenzione verso le zone interne o disagiate. Crediamo che tramite una maggiore collaborazione e partecipazione si possa vivere meglio, guarire meglio quando si è malati e quindi cercheremo di fare il nostro possibile. Il progetto coinvolge cittadini ed istituzioni sanitarie e politiche. I dati ancora non definitivi evidenziano già alcune carenze che avvalorano l'importanza del progetto. La conoscenza dei cittadini nei confronti dei servizi non è eccellente sicuramente, quindi c'è bisogno di maggiore informazione. La consapevolezza degli operatori sanitari nei confronti dei bisogni è lo stesso, un progetto un po' ambizioso. Speriamo di buttare il seme e di continuare su questa strada che crediamo è molto importante. Il dialogo è fondamentale. Grazie a tutti. Grazie.